buongiorno a tutti amici e amiche mitici di marco drums games channel oggi proviamo la patente l'ultima patente che mi manca andiamo a provare l'esame finale della s circuito de spafranco champs con la porsche 9 17k del 70 andiamo e proviamo a 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